Ciao a tutti, in questo video voglio parlare delle qualità essenziali del vero amore. Spesso noi confondiamo quello che chiamiamo illusione d'amore con l'amore vero. L'amore vero ha delle caratteristiche diverse dall'illusione d'amore, adesso andremo a vederle. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, la prima cosa fondamentale è che il vero amore ha la caratteristica di desiderare la felicità degli altri esseri. E in questo caso nel rapporto di coppia desiderare la felicità dell'altra persona e desiderare la felicità di noi stessi. Quindi un rapporto di coppia può essere considerato vero amore se entrambi amano se stessi e amano gli altri. Il che vuol dire non diventare zerbini e non diventare arroganti, come dire, è un po' la via di mezzo fondamentalmente. Quindi questo implica una cosa fondamentale che ci deve essere, e questo è un altro punto fondamentale, la fiducia. Cioè l'essenza del vero amore si basa sulla fiducia. Uno dice, vabbè ma la fiducia va bene, e quindi però la fiducia va bene ma la fiducia implica una cosa fondamentale. Cioè che non ci deve essere, che non ci deve essere gelosia. Se c'è gelosia, possesso, senso di possesso, desiderio di condizionare l'altra persona, quello non è amore, quello è un falso amore, è un amore, è un'illusione d'amore. Quindi renditi conto che chi è geloso o chi è gelosa di te non ti ama. E se tu sei geloso non ami, perché questo va contro la fiducia e va contro il desiderare la felicità dell'altra persona. Questo è fondamentale. Un altro punto fondamentale, basilare, di quello che caratterizza il vero amore è la gioia. L'amore non è tormento, deve essere gioia, gioia. Per fare un esempio, come dire, che è importante, immagina una persona setata, quando trova dell'acqua prova una sensazione di gioia. Ecco, quindi, questo per fare un esempio, quindi, quando incontri l'altra persona devi provare una sensazione di gioia. Questa gioia non deve essere tormento. Se c'è tormento, non è amore. E la gioia la puoi provare solamente se, diciamo, se vivi nel qui ed ora, nel tempo presente, se non porti rancore, se non vai a rimbangare il passato, perché più vai a rimbangare il passato, meno gioia potrai provare. Più vai a rimbangare il passato, meno situazioni di positive potrai trovare. Purtroppo, o per fortuna, le cose funzionano in questo modo. Un'altra cosa fondamentale è essere equanimi, verso gli altri e verso se stessi. L'equanimità cosa vuol dire? Che non devi mettere prima te in modo egoistico, ma neanche prima gli altri, perché ci sono persone che, come dire, credendo di potersi far amare, si zerbinano e fanno delle cose che non vorrebbero fare. Cioè, si prostrano, diciamo così, davanti alle esigenze degli altri. Essere equanimità è una cosa fondamentale. Sono due, no? Che sembrano diverse. Il discernimento e l'equanimità. Il discernimento vuol dire che io riesco a capire esattamente, a discernere, a capire come stanno le cose, a distinguere una cosa dall'altra, ma nello stesso tempo devo essere equanime, cioè mettere le mie esigenze, le esigenze degli altri, per il merito. Se sono esigenze completamente diverse, vuol dire che questa persona non è una persona giusta per te, non è veramente la persona che va bene per te. Questo dobbiamo renderci nel conto. Però, a quel punto lì, bisogna chiudere la relazione. A quel punto lì, è inutile tentare di portare avanti qualcosa che non funziona. Questa è la cosa peggiore che possiamo fare. Ecco, se vengono mantenuti saldamente questi punti, allora si potrà dire che si sta vivendo un amore vero, un amore che darà i suoi frutti fondamentalmente, sarà come un seme positivo che darà i suoi frutti. Se invece non, come dire, queste condizioni, queste caratteristiche non sono presenti, non ci sono, allora stai vivendo un'illusione d'amore. Per carità, niente di male, eh, io non voglio dire che... Però, almeno sappi che non si tratta di amore, ma si tratta di qualcos'altro. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!